Approvata nell'ultimo Consiglio Comunale di Terra Nuova la variazione del programma triennale delle opere pubbliche. Oltre alla realizzazione del parcheggio del Palazzetto dello Sport, una carenza evidente sotto gli occhi di tutti fino ad oggi, diversi sono gli interventi che l'amministrazione Chieni ha in programma. L'implianzamento nell'anno 2018 dell'intero intervento riguarda l'ampliamento della mensa e la sistemazione della viabilità interna in modo tale da mettere in piena sicurezza tutti i percorsi, anche questo è un altro intervento significativo. Sempre nel 2018 abbiamo previsto 300.000 euro per intervenire sulla torre storica di Piazza Canevaro. Alcuni cittadini o comunque cittadini sicuramente avranno notato che abbiamo fatto un primo intervento sulla torre storica che sostanzialmente è di contenimento perché la torre necessita di una manutenzione straordinaria, abbastanza significativa, in modo tale non solo da riqualificarla, quindi da abbellirla e valorizzarla, ma anche da renderla più robusta per quanto riguarda anche eventuali eventi calamitosi. A completare le opere che di fatto poi concludono anche il mandato da primo cittadino, ecco gli ultimi interventi sulle strade. Oltre a queste cose qui sono previste anche nel 2018 l'intervento sulla strada del Borro del Tasso che versa in cattive condizioni e quindi necessita anche in quel caso lì di un intervento significativo. Sono un po' le opere che ci separano dalla conclusione del mandato che siamo in condizione di realizzare grazie proprio a questi finanziamenti che metteremo progressivamente in atto e di questo siamo soddisfatti.